12 maggio giovedì eccoci insieme ben trovati ben trovati all'almanacco rosco pogge san nereo come il famoso paronne reo rocco l'allenatore l'etimologia della parola il nome a origine greca significa grande nuotatore l'almanacco ci ricorda che nel 74 oggi in italia si triva il referendum sul divorzio gli italiani chiamati a decidere se abrogare o meno la famosa legge fortuna baslini per i compleanni e quello di andry owen l'atleta nato nell'ottantacinque l'allenatore zenek zeman nato nel 47 infine ricordiamo bart baccarac nato il 12 maggio del 1928 auguri a tutte e a tutti e adesso insieme all'oroscopo in questo giovedì ariete date tempo ad un progetto che sta maturando e concentrate i vostri sforzi su ciò che avete a portata di mano una decisione presa con tempismo e coraggio si rivela azzeccata possibilità di superare le tensioni familiari ricorrendo al vostro senso della realtà toro in campo pratico e lavorativo la volontà e la chiarezza nelle idee vi permettono di non cadere in una trappola evitando situazioni di ristagno assecondate la vostra natura e in amore siate espansivi e pronti a captare le sfumature gemelli si riscalda il dialogo amoroso nuovi motivi di affiatamento vi rendono più che mai aperti a un'intesa spumeggiante nel lavoro non rifiutate un'alleanza per motivi di orgoglio favorite le iniziative culturali ed artistiche in genere cancro applicatevi con entusiasmo nel lavoro i risultati non tarderanno a ridarvi piena fiducia in nuovo slancio verso traguardi soddisfacenti attenti però al bilancio limitate le uscite non indispensabili leone favorite tutte le iniziative che permettono di ampliare i contatti umani sia nel lavoro che nelle amicizie difendete la sfera degli affetti da ogni interferenza esterna la persona amata ha bisogno della vostra esclusiva vergine i fatti vi danno ragione non date peso alle critiche e continuate per la vostra strada fate appello al vostro senso pratico e risolverete una situazione meno complicata di quanto in realtà non vi sembri documentatevi prima di fare acquisti bilancia l'ottimismo e la capacità di rischiare vi permettono di imprimere alle cose il ritmo e le direzioni che ritenete più giusti buone prospettive per le finanze e progressi nel lavoro vagliate una proposta con lungimiranza scorpione nel lavoro buona occasione per uscire allo scopetto c'è un'idea da mettere in comune buona la forma intellettuale non date spazio ai luoghi comuni un'ottima venere stasera vivacizza il dialogo amoroso sagittario possibilità di mettere fine ad un impegno e di raggiungere lo scopo che vi eravate prefissati responsabilità nuove da affrontare col sostegno di una rinnovata fiducia nei vostri mezzi in amore tutti i nodi si sciolgono venere regala momenti felici in serata capricorno gli sforzi che fate per andare incontro agli altri saranno oggi finalmente ricompensati verificate una teoria prima di metterla in pratica non prendete impegni extra con troppa leggerezza stabilità in amore grazie ad una venere sempre amica acquario mercurio regala molte soddisfazioni in campo intellettuale date respiro ai nuovi interessi coltivate i rapporti interpersonali aprendo via i contatti anche nuovi momento di transizione in campo affettivo pazientate pesci nel lavoro evitate dispersioni e programmate ogni cosa con cura non dimenticate una scadenza la vita sociale stasera si anima guardate le cose sotto una luce nuova e più ottimistica qualche inquietudine in campo affettivo